Il fascino di Sorrento e della costiera sorrentina è davvero unico. Sorrento sorge su una piana di tufo a strappiombo sul mare e offre uno dei panorami più intensi della regione fra vegetazione lussurreggiante e il mare blu cobalto. Dalla villa comunale puoi infatti godere di un panorama unico specialmente al tramonto. Ci sono diverse cose che puoi fare a Sorrento e una di queste è sicuramente quella di andare a Marina Piccola dove puoi trovare alcuni ristoranti e poi puoi rilassarti direttamente sul mare. Comunque il motivo principale per andare a Marina Piccola è quello di imbarcarti su una delle motonavi. Se sei a Sorrento certamente vorrei vedere anche le altre magnifiche località della costiera amalfitana. Da Sorrento puoi facilmente raggiungere Capri e Positano ad esempio. L'imbarco delle motonavi è proprio qui a Marina Piccola che si trova dalla parte opposta di Marina Grande se prendiamo come punto di riferimento il centro di Sorrento. Dalla barca puoi ammirare la bellezza e particolarità di Sorrento dal mare e puoi riconoscere Marina Grande grazie alle case colorate affacciate direttamente sul mare. Ciao a tutti, se ti è piaciuto questo video iscriviti al nostro canale, metti un like e iscriviti Ciao, mi commenti qui sotto. Ciao, al prossimo video!